Intelligenza artificiale, una realtà con la quale bisogna cominciare a fare i conti e anche dovranno fare i conti con questa realtà anche gli educatori. Non bisogna innanzitutto aver paura di questi sistemi perché rappresentano un'ottima opportunità per coloro che in maniera consapevole li utilizzano. Chiaramente comporta tutto questo mondo dell'intelligenza artificiale anche delle sfide che a livello educativo devono essere tenute in considerazione e che saranno appunto le sfide che in un prossimo futuro ma già in parte nel presente dovranno essere conosciute, dovranno essere affrontate per poter rimettere al centro dello sviluppo la persona, l'uomo. Ecco un problema educativo perché è chiaro che il fascino dell'intelligenza artificiale appassiona i giovani, il problema è come utilizzarlo. La sfida più grande dell'intelligenza artificiale è proprio educativa. Tante volte utilizziamo questi sistemi senza sapere come questi sistemi lavorano, senza avere la minima consapevolezza di quelle che possono essere le conseguenze sulla nostra vita, sul nostro lavoro, sul nostro modo di relazionarci con gli altri e questo se non viene adeguatamente compreso e gestito può creare notevoli difficoltà. Gli insegnanti si trovano di fronte a questa cosa altamente innovativa e dovranno presentarla ai nostri giovani. Qualche consiglio per affrontare questo tema nella misura e nel modo giusto? L'intelligenza artificiale è utile perché dà comunque degli strumenti che sono preziosi per gli insegnanti ma non deve mai sostituire la relazione fra il docente e lo studente. Quella deve rimanere il punto fermo di ogni rapporto educativo. Se salta quella non esiste intelligenza artificiale che possa sostituirla. Quindi sì all'utilizzo di questi sistemi ma mantenendo sempre viva, ferma la relazione educativa. Intelligenza artificiale e insegnamento anche sotto il profilo cristiano. Qual è questa possibilità di relazione stretta? La possibilità di relazione stretta sta nel fatto che l'intelligenza artificiale quando è capita bene diventa un'occasione di umanizzazione. Cioè diventa il modo, uno dei modi attraverso i quali valorizzare la persona. Sembra paradossale ma in realtà utilizzare al meglio l'intelligenza artificiale a servizio dell'uomo significa umanizzare sempre di più la persona e non metterla da parte come tante volte possiamo immaginare.